Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Scendono, seppur gradualmente, i contagi da Covid-19 in Abruzzo. Sono 944 di età compresa tra 3 mesi e 99 anni i nuovi casi registrati oggi. 740 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi di età compresa tra 68 e 92 anni. Due in provincia di Chieti, uno in quella di Teramo, uno in provincia dell'Aquila, tre risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Il bilancio sale dunque a 3.282. 1.497 sono invece i guariti. In calo i ricoveri in area medica. Sono 257 i pazienti, meno 15 rispetto a ieri. 12 in terapia intensiva, più uno rispetto alla giornata di ieri. Mentre gli altri 28.924 sono i positivi in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.431 tamponi molecolari e 5.858 test antigenici. Il tasso di positività è dunque pari a 11,38%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.